Cari amici cinesi, sono Marco Zambuto, agrigentino doc e sindaco di questa meravigliosa città. Quella che vedete alle mie spalle è la Valle dei Templi, patrimonio dell'UNESCO, testimonianza mondiale di arte, di storia e cultura. Agrigento e tutta la Sicilia sono autentiche perle in Italia e in Europa. Vi offriamo sole, mare, gastronomia, storia e divertimento, un mix unico al mondo. Venire in Italia e non visitare Agrigento e la Sicilia è impossibile. Vi aspettiamo numerosi, dalla Cina come dal resto del mondo. Amici cinesi, invadeteci, non vi deluderemo.